Ehi, non è male! Non so se capito! 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 Ok, ragazzi! Qua ci metto la mia pagaglia! Eh? Potete salire, iniziate a fare un po' di avventura! Viva la mia! 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 aspetta 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 che manca l'omo aspetta che anche al capo si ma di solito va sul naso, le altre persone, occhi, i denti, non ti capisci domani, se vogliamo salutare qualcuno, se vogliamo salutare qualcuno, noi prendiamo l'altra mano, la mano è bassa, eh ragazzi, voglio trattare, va bene, vuole calcolarsi, oh, non lo so, salvo, come no, come no, un dio, un dio, un dio noi, adesso cominciamo bene ragazzi, troffiamo, e il lato destro siete sicuri? che è il lato sinistro? ok avanti avanti aspetta eh oh oh fresco eh oh forza destri forza destri andate bastardi voglio vedere il sangue vai cazzo dai cazzo dai che sticchietti o mi faccio l'esterno via ci so è e ho e ho ma hai troppo velato e niente ma no se no devo farti sei anni che poi si trae mi stai negozi ci vuole via avanti voglio vedere io ma